Ospite da noi, Madre Teresa di Calcutta. Buongiorno Madre. Era il 13 aprile 1984, Raffaella Carrà viene a sapere la mattina stessa che potrà intervistare Madre Teresa di Calcutta. Non fa in tempo neppure a cambiarsi per quello che sarà lo scoop della sua vita. Racconterà di essersi sentita a disagio per il suo abito scintillante i primi 5 minuti, ma poi di essere entrata in sintonia sul tema dei bambini. Dice che il bambino è il più grande regalo di Dio e quindi evidentemente non gli si può togliere la vita. Ed è nato per amare ed essere amato naturalmente. Cosa?